E la prima di questo film finalmente è arrivato? Finalmente, tanto lavoro, finalmente ripagato. La sala è piena, noi siamo pronti, quindi si spera in un successo veramente di pubblico perché questo film è un film diverso, è un film denuncia e noi stiamo denunciando il malaffare. Quindi mi raccomando, tutti carichi, ecco qui i protagonisti sono tutti carichi, io pure, speriamo bene. Cosa vuoi dire? Ci tengo a dire una cosa, in questo film emerge l'orgoglio calabrese. Lo vediamo nelle musiche, nelle sceneggiature, nelle immagini, nelle canzoni che ci sono, negli attori, anche nei personaggi, personaggi che vanno e tornano in Calabria, personaggi che tradiscono la calabresità. Quindi veramente è un film dell'orgoglio calabrese. Speriamo di essere riusciti a comunicarlo veramente bene, speriamo. Che orgoglio c'è per voi? Per noi è una prima esperienza, diciamo che è molto importante quello che abbiamo fatto, grazie a Fabio, compagnia, cioè è un onore diciamo per noi. Per te un onore? Beh certo, anche perché è stata una bellissima esperienza, ci siamo divertiti, poi siamo stati appunto anche onorati di poter interpretare i protagonisti per il senso del film, comunque per mandare questo messaggio. È una serata particolare, ma per la gente che c'è c'è soddisfazione. Tanta, tanta soddisfazione e spero che possano apprezzare anche la crescita che abbiamo avuto. Questo è il sesto film, spero veramente che ci possano apprezzare, possano apprezzare i luoghi e i personaggi. Ciao, numero uno, che cosa mi vuoi dire? Per il numero uno, no, sono contento soprattutto della risposta della Calabria, di Issa e Crotone. Questo sono contento perché Fabio, il regista, merita una risposta. Qual è il tuo ruolo? Vai, costa faccia che vuoi fare, un capobosso, un malà. Nessuno mi fa fare l'innamorata a me, costa faccia, solo il cattivo. Tu che ruolo hai? La moglie dell'assessore, è corrotto. E niente, è un... Hai detto con orgoglio la moglie dell'assessore? Corrotto con... Corrotto un po' meno, è vero, perché viviamo un po' un mondo un po' nella tragedia, quindi avere un marito che fa delle cose così non è orgoglio. Però è stato bello recitare, è molto forte, è una scena molto forte. Ti vedo molto emozionato, sbaglio? Sì, come sempre. Emozionato è la prima in assoluto esperienza sia con la compagnia sia in generale. Io interpreto il sindaco, sono emozionatissimo e spero che piaccia tanto perché c'è stato fatto un grandissimo lavoro, un gran lavoro di squadra, molto bello, la produzione, è stato tutto bello, quindi speriamo che vada tutto bene. Diciamo che non è la prima partecipazione con Fabio, ma questa è una grande emozione, una bella partecipazione, anche con i colleghi che abbiamo girato. C'è tanta gente nella sala e questo vale più di ogni altra gratificazione. Diciamo che questo ci gratifica tanto e siamo orgogliosi. Non è terra di nessuno. Speriamo che qualcuno lo prenda. Al bello del film non potevo chiedere che emozione c'è stasera. Eh, da morire. Un po' non vedo l'ora di vedere come interpreto la mia parte, non facile. Speriamo bene che ho fatto bella figura proprio nelle scene, lo spero. Qual è il tuo ruolo? Sono il fratello del protagonista. Lui è totalmente il contrario di me. Io sono il ragazzo sfigato e sfortunato. Lui invece è il personaggio in cui cerca di cambiare il sud.